Ciao, sono la dottorissa Carmen Valentino e oggi voglio parlarti dell'equiseto, una pianta dalle mille proprietà. Grazie alla presenza infatti di calcio, magnesio, silice e potassio, l'equiseto contribuisce al metabolismo dell'osso e alla rimenerizzazione del tessuto osseo articolare e dei tessuti duri, come ad esempio capelli e unghie. Te lo consiglio quindi soprattutto a te che hai fragilità proprio a livello delle unghie e se hai perdita di capelli. E inoltre un ottimo diuretico e capillo protettore, quindi lo consiglio a te se soffri di fragilità capillare grazie alla sua azione astringente a livello dei vasi sanguigni. Inoltre viene impiegato soprattutto in campo cosmetico in quanto è un ottimo riparatore tessutale quindi infatti viene utilizzato proprio in molti prodotti contro le smagliature, le rughe e la cellulite. Come puoi utilizzarlo? Si può curamente come infuso, quindi ti consiglio di versare un cucchiaio raso di questa pianta all'interno di un po' di acqua fredda lascialo bollire per almeno 10 minuti, dopodiché spegni la fiamma e coprilo. A questo punto lascialo a riposo per circa 10 minuti, dopo 10 minuti filtra il tutto e bevilo mi raccomando lontano dai passi, proprio per usufruire della sua azione rimineralizzante e diuretica. Lo sconsiglio se soffri di ipertensione, se stai assumendo dei farmaci diuretici e ovviamente se sei in gravidanza o in allattamento. quindi provalo e fammi sapere come va. Se hai qualche dubbio scrivi pure un commento qui sotto oppure se l'argomento può interessare a una tua amica taggala pure in un commento qui sotto. Ciao e a presto!